Nel comune di Fano il problema delle mucillagini si è fatto sentire, soprattutto se si guarda i numeri delle disdette nelle strutture ricettive. Tuttavia, nonostante ciò, il bilancio appare comunque positivo, con un dato che salta all'occhio più di tutti, ovvero che al calare del numero di ingressi nella città aumenta quello di chi vi risiede, ovvero meno gente arriva a Fano, ma più persone decidono di fermarsi per maggior tempo in vacanza. La stagione ha rappresentato sicuramente delle criticità, come abbiamo detto oggi, legate a qualche arrivo in meno rispetto all'anno precedente, però è una stagione che ha visto protagonisti sicuramente le nostre strutture ricettive, quindi gli alberghi, i campeggiatori e tutte le strutture ricettive. Più presenze meno arrivi vuol dire che è un dato che probabilmente rappresenta forse un turismo vecchio stile, ovvero meno persone scelgono il nostro territorio e decidono di starci più giorni. Noi vorremmo che ci fossero più persone a scegliere il nostro territorio, questo ovviamente passa per diverse cose che dobbiamo mettere in campo, ovviamente quello che abbiamo detto da parte delle infrastrutture, degli eventi, del collegamento con l'entroterra perché abbiamo l'esigenza che più persone, soprattutto turismo straniero, possa scegliere il nostro territorio. Non è andata come ce l'aspettavamo perché il caldo eccessivo abbiamo ripiegato sul discorso della gente che non ce la faceva e doveva ritornare a casa, abbiamo avuto parecchie disdette anche sul fatto della mucillaggine perché il caldo tanto è come la giornata piovose, la gente non riesce a stare sotto l'ombrellone, preferisce dice sto a casa perché oppure abbiamo ripiegato portandole nell'entroterra ma era molto molto difficile trattare con queste persone che naturalmente era un caldo insopportabile. La mucillaggine ha portato avanti parecchie disdette.